Un indotto in ginocchio con perdite fino al 30%, una stagione tra le peggiori che si ricordino, eppure sembra che le nuvole che si addensano in quota sul Gran Sasso d'Italia non accennino a dissiparsi. La funivia, vero motore trenante del turismo sia invernale che estivo, infatti è ancora chiusa, nonostante tutte le carte richieste dal Ministero per la sua riapertura in deroga, in attesa del cambio fune, sia in regola. A mancare all'appello, oramai da giorni, è la firma del responsabile del procedimento per Hans Fisa, l'ingegner Pietro Marturano che per ragioni sconosciute ancora non appone la sua sigla su quel documento che darebbe certamente un po' di respiro a tutti coloro che lavorano nel comprensorio, oltre che ai centinaia di turisti costretti fino ad oggi a prendere una navetta per salire in quota. Una situazione di immobilismo che sta lentamente fiaccando anche le forze più ostinate a difesa della montagna aquirana. Guarda caso non è colpa dell'amministrazione, non è per difendere la spada tratta, ma è perché gli uffici hanno fatto quello che dovevano. Tutte le prescrizioni sono state eseguite alla lettera, tutto è risultato nella maniera positiva, nel senso che sta tutto bene e purtroppo manca questa firma che è di là da venire, creando nervosismo nel territorio, creando problemi alle strutture ricettive, alle strutture turistiche e commerciali, quindi è un bel problema.